Complimenti a Maria Centracchio che riesce ad ottenere il bronzo nella categoria Judo 63 kg femminili, batte l'olandese e rimpingua il nostro medagliere. Dopo la delusione di Orn al quarto posto nella canoa Slalom e la finale raggiunta da Federica Pellegrini, pensate la quinta, un'altra buona notizia per la nazionale italiana. Ricordiamo che l'obiettivo detto dal presidente del Comitato Olimpico Italiano è quello di raggiungerne le 30 medaglie. Onestamente, visto che la scherma non è stata foriera di successi come in passato e arriveranno sport come l'atletica che ci vede assolutamente deficitari, non è una buona notizia. Complimenti alla ragazza per questa vittoria del Judo, ci prendiamo l'ennesima medaglia. Purtroppo non riusciamo a essere protagonisti con una medaglia splendente d'oro, speriamo che questa situazione possa essere rimediata più presto. Ancora una medaglia per lo sport italiano a Tokyo 2020.